appassionati di palla a mano nuova puntata stagionale di handball mania ed è la prima puntata del 2023 ed è una puntata particolare molto particolare ve ne accorgerete in primis dalla location alle mie spalle siamo all'interno della casa della palla a mano siamo in uno dei momenti di pausa all'interno del torneo di qualificazione dei campionati mondiali under 21 che comincerà domani proprio su questo campo e che vedrà coinvolte sette nazionali tra le quali anche la nazionale italiana gli azzurrini che sfideranno la croazia il montenegro ed israele nel girone a nell'altro raggruppamento le altre tre squadre di questo girone ci saranno per l'appunto la polonia la repubblica cieca e la formazione della norvegia che si sfideranno in due gironi che procederanno in maniera parallela al ritmo di tre partite al giorno per due posti all'interno dei campionati mondiali che si svolgeranno poi in estate tra germania e grecia questo naturalmente è il tema della settimana ma siamo in un periodo dell'anno sicuramente particolare perché siamo a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e proprio nel mezzo tra natale e capodanno si è posizionata innanzitutto l'amichevole della nazionale maschile che ha sfidato la formazione della croazia lo ha fatto in trasferta perdendo 40 26 in amichevole gara che si è giocata a pola di questo e di altro abbiamo parlato con il direttore tecnico della nazionale in una lunga intervista in cui si chiacchiera per l'appunto sia di nazionale e signore se quindi vediamo come è andata l'amichevole vediamo quali sono stati soprattutto per il direttore tecnico trillini i punti che non hanno funzionato nella prestazione dell'italia non la migliore prestazione della formazione azzurra e poi si parla però anche di under 21 che sarà il tema principale di questa puntata vediamo siamo a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 nel mezzo innanzitutto prima ancora di queste qualificazioni mondiali under 21 c'è stata l'amichevole della nazionale in croazia l'hai detto subito dopo la partita non è stata la migliore prestazione della nostra nazionale al di là della difficoltà della partita chiaramente c'erano degli obiettivi da te delineati nel corso della partita che cosa non è andato in modo particolare a tuo avviso ma non è andato l'approccio iniziale perché abbiamo abbiamo avuto delle grandi difficoltà loro ad un certo momento quando noi abbiamo sbagliato delle seconde fasi veloci hanno chiuso la partita quasi con due o tre prime fasi a questo non è possibile a questi livelli concedere queste palle intercettate dopodiché non abbiamo mai retto l'urto di questa croazia quindi bisogna dire che non è andata bene come partita abbiamo ci siamo allenati con tantissime difficoltà perché non eravamo tanti abbiamo perso dei giocatori per infortunio o per malattia la partita di conseguenza non è andata bene la cosa che mi dispiace è che non aver potuto continuare questo questo lavoro perché poi ci stanno le partite che vanno male ma bisogna avere la forza di analizzarle insieme e migliorare avere un'altra chance avere altre partite che è appunto la cosa che fanno i nostri avversari in questo momento e noi invece purtroppo siamo tornati a casa dopo la Croazia e starà un po' a me a cercare di dare continuità facendo anche delle analisi online di questa partita cercando di chiamare i giocatori di dargli degli obiettivi da qui a tre mesi che ci separano appunto dalla Lettonia. Si è parlato di giovani ne abbiamo visto uno in particolare nella gara contro la Croazia Cristian Manojlovic naturalmente senza voler mettere nessuna pressione assolutamente su Cristian ci mancherebbe però è una rotazione in più che ha dimostrato comunque di poter dare dei minuti e ha già dimostrato più volte anche in Serie A Gold di saper giocare bene a pala a mano. Si infatti tutto nasce da lì perché vedendolo tutte le volte in partita in Serie A mi sono accorto che ha le qualità tecniche e fisiche per poter stare in nazionale senior nonostante l'età. A lui manca ancora l'esperienza e soprattutto la gestione dei palloni però siccome l'anno scorso con la Juniores ha giocato molto bene quindi in un contesto diverso con più responsabilità ho provato perché vado cercando proprio contro la Lettonia e la Polonia un altro giocatore esterno e devo dire dobbiamo dire che ha fatto benissimo anche in un ruolo non suo di terzino destro per cui è molto molto bene questo esperimento perché l'avremo bisogno. Io spero nel rientro di Bortoli ma un giocatore destro di mano che sappia fare quelle cose che ha mostrato Manojlovic è molto importante. Rimaniamo in tema di giovani hai tirato in ballo anche Thomas Bortoli che non ci sarà in queste qualificazioni mondiali Under 21 stai seguendo naturalmente qui a Chieti il gruppo con alcune novità come si presenta questa squadra alle qualificazioni. Bortoli ci mancherà sicuramente sarebbe ipocresia dire il contrario però sono fiducioso perché ho visto Rovatin che era in dubbio è in dubbio penso che lui potrà giocare magari non sarà non avrà il tiro di l'estate passata ma non importa è meglio averlo un capitano in campo è troppo importante e speriamo di recuperare anche Aldini perché è in forza anche lui. Detto questo c'è in più rispetto all'ultima uscita in Portogallo l'apporto di Manojlovic e l'apporto spero anche di Zanon perché non ci dimentichiamo che Zanon veniva da un lungo infortunio per cui è cambiato tantissimo abbiamo visto che in Serie A è un signor terzino per cui se lui si scioglie un po' sarà il giocatore che sostituirà anche Bortoli e noi ce lo auguriamo. E dunque abbiamo ascoltato le parole del direttore tecnico Riccardo Trillini tanti i protagonisti però di queste qualificazioni ai campionati mondiali Under 21 uno dei quelli che sarebbero stati sicuramente tra i protagonisti annunciati è Thomas Bortoli che non ci sarà per infortunio come abbiamo ascoltato nelle parole proprio di Trillini ma ovviamente la nazionale Under 21 arriva con grandi ambizioni un po' perché è la prima tra le escluse dopo i campionati europei che si sono giocati nell'estate scorsa in Portogallo dodicesimo posto per la nazionale italiana e un po' anche perché si gioca proprio all'interno della casa della palla a mano e allora il fattore campo dovrà essere quell'elemento in più che potrà spingere la formazione guidata in panchina dal tecnico Boris Popovic. Nel servizio facciamo il punto e vediamo quali saranno gli appuntamenti dell'Italia, quale sarà il calendario, quale sarà il percorso che dovrà condurre poi domenica a decidere le due qualificate ai prossimi campionati mondiali. Il 2023 della palla a mano azzurra inizia dalla casa della palla a mano di Chieti il centro tecnico federale dalla 6 all'8 gennaio prossimi ospiterà infatti il torneo di qualificazione ai campionati mondiali Under 21 maschili in programma nella prossima estate tra Germania e Grecia Italia padrona di casa e opposta ai coetanei dei Montenegro, Israele e Croazia l'impresa è ardua ma non impossibile. Gli azzurrini vengono da due dodicesimi posti consecutivi agli europei, prima Under 19 e poi Under 20 disputati nelle ultime due stati nel corso dei quali peraltro hanno fatto risultati tra le altre anche contro le stesse avversarie che troveranno opposte questa volta in Abruzzo. La situazione stavolta è diversa, l'assenza di Thomas Bortoli e i problemi alla spalla del capitano Giacomo Rovatine non potranno non condizionare le scelte del tecnico Boris Popovic che ritrova però Luigi Arena, inserisce Simone Labruna dal Cassano Magnago e fa ampio affidamento sui giovanissimi del Campus Italia da Tommaso De Angelis a quella Cristian Manojlovic che intanto lo scorso 29 dicembre ha debuttato in Nazionale Senior segnando 5 gol ai plurititolati campioni della Croazia. Il resto è fatto di volti noti agli addetti ai lavori e agli appassionati a cominciare da Nicola Fadanelli. Il centrale dell'Alperia Merano ha segnato 44 reti agli europei estivi in Portogallo, quinto nella classifica a marcatori del torneo e con 52 gol all'attivo e tra i top scorer del suo club in Serie A Gold. A Chieti arriveranno in tutto sette formazioni. Primo girone a quattro squadre mentre nel gruppo B spazio a Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca anche loro chiamate in causa per un secondo lascia passare verso i mondiali. La manifestazione che porterà sul territorio abruzzese circa 300 tra atleti e attetti ai lavori segnerà il ritorno di una nazionale di pallamano a Chieti a distanza di appena due mesi dal successo dell'Italia femminile contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai mondiali assoluti del 2023. A Chieti il torneo si aprirà come detto il 6 gennaio al ritmo di tre partite al giorno, sempre alle 15, alle 17 e 15 e alle 19 e 30 per concludersi l'8 gennaio. L'Italia giocherà sempre l'incontro serale, quello delle 19 e 30 e affronterà nell'ordine come già specificato Montenegro, Israele e poi Croazia. Diretta di tutti gli incontri su Eleven Sports si qualificano ai mondiali Under 21 le squadre che chiudono al primo posto il rispettivo girone. Nella grafica vediamo intanto subito il calendario di queste qualificazioni ai campionati mondiali Under 21, torneo che come detto procederà con due gironi che vanno avanti in maniera parallela ma non si incontreranno mai quindi le due vincenti di ciascun girone andranno direttamente ai campionati mondiali che poi si disputeranno tra il 20 giugno e il 2 luglio prossimi in Germania e in Grecia tra le città di Berlino, Hannover, Magdeburg e per quanto riguarda la Grecia nella capitale Atene. Questo è il quadro appunto degli appuntamenti all'interno della casa della Palamano, Italia che giocherà sempre alle 19.30 lo farà iniziando nella giornata di domani per affrontare la compagine del Montenegro, poi successivamente il giorno dopo gara contro Israele e per l'8 gennaio c'è la sfida ancora alle 19.30 che naturalmente auspichiamo possa essere decisiva contro i parietà della Croazia. Tre partite peraltro molto interessanti, molto equilibrate sicuramente tra squadre che si sono già affrontate nelle ultime due edizioni dei campionati europei, sia under 20 che under 19 e i precedenti peraltro sorridono all'Italia che due anni fa aveva abbattuto Israele, l'anno scorso ha abbattuto il Montenegro e ha pareggiato 25-25 contro la Croazia. La storia però in questo caso cambia sicuramente, cambia la location innanzitutto, cambia l'occasione e cambiano anche le pressioni perché qui ci si gioca tutto nel giro di 180 minuti raccolti in tre giorni. Ascoltiamo proprio a questo proposito le parole di Boris Popovic, l'allenatore della Nazionale Italiana Under 21. Al netto dell'assenza sicura di Bortoli, che Italia ritrovi per queste qualificazioni mondiali? Abbiamo ancora due giocatori che sono incerti, Aldini e Corvattini, il resto del gruppo sta bene, li ho trovati in forma ma anche lì a Cassano quelli che c'erano veramente vogliosi di far bene durante queste qualificazioni. Com'è lo spirito del gruppo dopo il dodicesimo posto dei campionati europei che ci ha visti un gradino appena sotto la qualificazione diretta? Adesso abbiamo la seconda chance, peraltro c'è stato lo sforzo anche da parte della federazione di dare la possibilità di giocarsela in casa a questa squadra. Subito dopo l'ultima partita il spirito non era proprio dei migliori, però passati dei mesi il gruppo ci crede, voglio dire che noi non ci siamo qualificati per un posto ma anche perché oltre a Germania la Grecia fa da ospite ai mondiali, perciò invece che 12 squadre sono andate 11 quest'anno dall'Europa a fare i mondiali, perciò abbiamo buone possibilità nonostante qualche acciacco sono molto fiducioso. Da un punto di vista di organico, da un punto di vista tattico che Italia vedremo in campo? In difesa solidi e in attacco pazientosi, cioè dobbiamo stare in attacco molto e non sprecare i palloni e creare vantaggio gol per gol, questo è l'obiettivo delle partite. Non essere precipitosi e cercare delle soluzioni subito, stare lì 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 e sfiancare la difesa avversaria. Sono stati inseriti anche alcuni giocatori nuovi, penso alla Bruna, penso a Iacomet, è rientrato Arena, De Luca e poi ci sono Manojlovic, De Angelis, Virer, i ragazzi più giovani, i ragazzi della Nazionale Ender 18. Che squadra vedremo e come gestirai soprattutto le rotazioni visto che si gioca per tre giorni consecutivi? Sì, la Bruna e Iacomet sono due giocatori che comunque sono stati seguiti in tutti questi anni, cinque anni da questa parte, dal prima volta che ci siamo trovati al raduno di Monte Silvano cinque anni fa, loro c'erano, perciò erano sempre lì vicini alla convocazione, qualche volta convocati, perciò non sono una novità. sanno i sistemi nostri e poi i giovani che hai detto prima, non è la prima volta che giocano, hanno giocato da protagonisti agli europei. Cosa dirai ai ragazzi nelle prime ore che precederanno, nelle ultime ore anzi che precederanno la prima partita contro Montenegro? Dobbiamo mettere in campo quello che proviamo in questi giorni, che abbiamo provato a Cassano, dobbiamo mettere in campo senza aver troppo stress addosso e giocare tranquilli e facendo le cose che facciamo in questi giorni, questa è la ricetta. Tra i protagonisti annunciati, e ha voluto esserci a tutti i costi nonostante i problemi fisici alla spalla, c'è il capitano Giacomo Jack Rovatin, reduce in estate dal trasferimento dalla sua a Trieste, la città e la squadra che lo hanno lanciato e cresciuto palamanisticamente parlando, è approdato nell'Accademia del Gummesbach, una delle squadre che hanno fatto la storia della palamano a livello europeo, formazione tedesca, formazione di Bundesliga, problemi alla spalla come dicevamo per Rovatin che sarà in dubbio fino alla fine, anche se abbiamo già ascoltato le parole di Trillini che era piuttosto possibilista e piuttosto positivo sul suo impiego, ha giocato nella partitella che si è disputata nella sera di mercoledì Giacomo Rovatin ed è molto carico, il capitano dell'Italia che ha anche un messaggio per i suoi compagni di squadra, ascoltiamo. È una qualificazione che ci è scappata davvero per poco intanto e da lì si riparte dalle faroe, da quella partita ai campionati europei ma anche da una squadra che è consapevole di essere la dodicesima squadra in Europa. Sì, devo dire che ci è sfuggita proprio per una sola partita, abbiamo avuto due occasioni, due grandi occasioni, una prima con le isole Faroe e la seconda con l'Islanda, non ce l'abbiamo fatta ma daremo il massimo per provare a portarla a casa, la qualificazione qua in casa. Una squadra che dicevamo viene da due dodicesimi posti quindi si è sempre confermata tra le migliori 16 squadre d'Europa, ecco con che consapevolezza questa Italia arriva a queste qualificazioni? Hai detto bene, due volte siamo arrivati dodicesimi agli europei quindi sappiamo il nostro potenziale e siamo sicuri che potremo fare delle ottime partite. Tre avversari, Croazia, Montenegro e Israele che abbiamo già battuto o come nel caso della Croazia abbiamo già comunque fatto il risultato pareggiando agli ultimi europei, adesso forse la storia cambia un po' però con un solo posto per quattro squadre che corrono. Sì come hai detto tu abbiamo già battuto queste tre squadre però siamo in quattro questo girone dove passa solo una squadra e quindi tutte le partite sono da vivere, da dare il massimo e cercare di portarle a casa. Un'Italia che innanzitutto dovrà fare a meno di Thomas Bortoli, al tempo stesso però ci sono i ragazzi più giovani di questa nazionale che sono cresciuti, è passato un altro mezzo anno, un'altra mezza stagione, i ragazzi del campus che stanno giocando la Serie A Gold e poi vengo a te perché ti devo chiedere anche come stai necessariamente perché sappiamo che hai dei problemi fisici alla spalla. Sì sicuramente l'operazione che ha avuto Thomas è una cosa che è inaspettata e auguro il meglio per lui però qua siamo una squadra, come hai detto bene tu abbiamo dei ottimi giocatori che vengono dall'Andera 19 a darci una mano, anzi più che darci una mano perché sono veramente degli ottimi giocatori. Poi mi hai chiesto della mia spalla, io adesso stavo facendo riabilitazione e vedremo di essere in campo per le partite che contano. Ad ogni modo visto che siamo entrati nella settimana che ci porta alle gare ufficiali di qualificazione il messaggio del capitano quello vale sempre, al di là dei problemi alla spalla naturalmente speriamo di superarli ecco. Sì il mio messaggio è che daremo il massimo e cercheremo di vincere. E concludiamo il nostro viaggio tra i protagonisti dell'organico azzurro della nazionale italiana che giocherà le prossime qualificazioni ai campionati mondiali Under 21 con quello che è stato il miglior realizzatore dell'Italia agli scorsi campionati europei in Portogallo, 44 reti per Nicola Fadanelli centrale che è passato in estate da Pressano, anche in questo caso come per Rovatin Pressano per Fadanelli è la squadra che lo ha cresciuto e che lo ha portato alla ribalta nell'ambito, nel contorno della palla a mano italiana. Trasferimento quest'anno al Merano dove il tecnico Jurgen Prantler gli ha affidato le chiavi del gioco. La stessa procedura avverrà con Boris Popovic al via di queste qualificazioni mondiali perché Nicola Fadanelli sarà pronto a trascinare la formazione italiana in queste qualificazioni a partire da domani dalla sfida contro il Montenegro. Nicola si riparte dalla dodicesima posizione degli europei che da un lato è stata una conferma di quello che avevamo fatto l'anno prima, quindi del fatto che l'Italia ha saputo stare ancora tra le migliori 16 d'Europa, dall'altro lato ci ha fatto un po' arrabbiare perché bastava arrivare un gradino più in alto per andare direttamente ai mondiali. Sì, ci ha fatto un po' arrabbiare ma non ci siamo demoralizzati, anzi abbiamo cambiato solo l'obiettivo, ora ci stiamo allenando bene perché non vogliamo sprecare un'altra possibilità, ci siamo andati veramente vicino agli europei anche pur avendo fatto un buon europeo, ora cerchiamo di dare il massimo a queste tre partite e di portare a casa questa qualificazione. Da un punto di vista di approccio mentale a queste qualificazioni troviamo tre squadre con cui abbiamo sempre fatto un risultato positivo in gare ufficiali o pareggi come nel caso della Croazia o vittorie e poi arriviamo da questi due dodicesimi posti che comunque sono un segnale, lo diceva anche il capitano Jack Rovatin, del potenziale di questa squadra, non arriviamo in rincorsa, a dover rincorrere gli altri. Sì, forse cambia qualcosa rispetto agli europei perché agli europei arrivavamo con la mentalità magari di non essere la squadra più forte, di dover fare il risultato per forza arrivare primi, ora cambia qualcosa. Dobbiamo vincere e sì, il gruppo c'è, siamo un bel gruppo, stiamo lavorando insieme da tanti anni. Penso che sarebbe la ciliegina sulla torta per questo bellissimo traguardo che possiamo raggiungere tutti insieme come squadra, anche pur avendo delle assenze. ora vedremo chi sarà e chi no, però non ci tiriamo indietro e vediamo di portare a casa il risultato, ci proviamo. Una squadra che tra l'altro oltre ai, tra virgolette, veterani, non si può usare questa parola in Under 21 ma ne abusiamo un pochettino, ha inserito anche alcuni elementi nuovi che stanno facendo bene in campionato e poi ci sono quei ragazzi più giovani come Manojlovic, come De Angelis, Wierer che vi hanno già dato una mano agli scorsi campionati europei. Sì, i ragazzi del campus ormai non li possiamo più chiamare novità perché ormai sono parte integrante del gruppo, ci danno una mano veramente importante, ormai sono entrati nel giro dei titolari, poco ci manca e contiamo su di loro, noi veterani come hai detto te, per abusare della parola, però sì, siamo un gruppo un po' nuovo, con qualche elemento nuovo ma comunque la base è quella, non abbiamo fatto niente di nuovo in questi allenamenti, stiamo solo cercando di rafforzare quanto fatto negli anni. Una panoramica sull'avversario Croazia, Montenegro e Israele? Sicuramente la Croazia sarà l'avversario forse più temibile, poi comunque il Montenegro, abbiamo fatto una partita agli europei, non è stato per niente facile, siamo riusciti a spuntarla, Israele non ci abbiamo giocato l'anno scorso gli europei, ci abbiamo giocato l'europeo prima, abbiamo vinto, ma comunque è stata la partita decisiva per poi salvarci, quindi siamo tutte squadre dello stesso livello, secondo me non possiamo entrare con una mentalità sbagliata o sbagliare troppi palloni come magari è successo in qualche partita all'europeo, dobbiamo entrare concentrati, sicuri di noi stessi e sono sicuro che si può fare. Vediamo rapidamente in grafica, allora prima i convocati di questa nazionale italiana e quindi vediamo totalmente l'organico, un organico composto da 18 atleti anche se con ogni probabilità non ce la farà Enrico Aldini, problemi al ginocchio per il pivot e soprattutto specialista difensivo della nazionale italiana e della Raimon Sassari e questo sarà e potrebbe essere un grosso problema per lo schieramento difensivo italiano dopo l'assenza di Bortoli che rappresenta per l'appunto una forfè molto pesante sia nella fase d'attacco perché Bortoli garantisce tanti gol sia anche in quella difensiva perché l'adattamento soprattutto dell'Italia sulla difesa in 5-1, sulla difesa più aggressiva dipende molto e dipendeva molto proprio da Thomas Bortoli. Dunque questa è la lista dei convocati, rivediamo insieme anche il calendario, dicevamo Italia che domani debutta alle 19.30 contro il Montenegro, poi affronta sempre alla stessa ora il 7 gennaio Israele, l'8 gennaio invece la formazione della Croazia, tutte le partite saranno trasmesse in diretta gratuitamente su Eleven Sports, tutte le partite del torneo di qualificazione per quanto riguarda le gare del Italia naturalmente ci ritroveremo anche in telecronaca. Questo dunque il quadro piuttosto ampio dedicato alle qualificazioni ai campionati mondiali, adesso andiamo in pausa e poi siamo sempre qua dalla casa della pallamano per parlare anche di Serie A1 femminile perché sabato si riparte con la prima giornata del girone di ritorno. Prima giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie A1 femminile su tutti, ovviamente cerchiato in rosso, c'è il big match tra la C-Lifestyle Erice e la Cassa Rurale Pontinia, Pontinia che ha chiuso la girone di andata da capolista con un filotto di 10 vittorie consecutive, un filotto che era iniziato proprio dopo la sconfitta nella prima giornata stagionale lo scorso 3 settembre sul campo, anzi in casa per mano della C-Lifestyle Erice, possibilità dunque di vendetta sportiva naturalmente per la squadra allenata da Giovanni Nasta e da Anthony Laurea. Curiosità invece a Salerno dove debutterà la cubana Gomez, arrivata nel corso della sessione invernale del mercato, Salerno che riparte al via di questo 2023 della Serie A1 femminile dopo aver trionfato in Supercoppa battendo le Brics and City Roll che intanto sempre in tema di mercato ha ufficializzato Anna Saranovic. Vediamo. Nuovo anno, nuove sfide, stesso campionato. La Serie A1 riparte nel weekend dell'Epifania dalla dodicesima giornata stagionale e soprattutto dalla primo turno del girone di ritorno di regular season. La classifica cristallizzata a dicembre ha consegnato alla cassa rurale Pontini il titolo di campione d'inverno, segnale di un percorso fin qui notevole delle laziali ma che richiede conferme costanti viste le risicatissime distanze che dividono il primato da Iomi Salerno e AC Lifestyle Erice. In più il finale d'anno ha consegnato proprio a Salerno il primo titolo della stagione, la Supercoppa, dando un'iniezione di fiducia all'organico allenato da Francesco Ancona al quale la società peraltro ha regalato in vista del match in trasferta di sabato contro la Casalgrande Padana anche il rinforzo della duttile 27enne cubana Eiat nel Rizzo Gomez. Mercato anche a Brixen dove il volto nuovo risponde al nome di Anna Saranovic, montenegrina ex di Mezzucorona e Puntinia. Alto attesine chiamate ad ospitare in casa sabato la Secur Fox Ferrara che intanto ha risolto l'accordo con Sandra Radovic ma la sfida di cartello va in scena in Sicilia dove Erice riceve la capolista Puntinia. I soli due punti che dividono le squadre sono un'opportunità di accancio da un lato di minifuga dall'altro. All'andata si erano imposte le trapanesi ma da lì in avanti e poi per dieci partite consecutive Puntinia ha sempre vinto. Curiosità per l'esortio sulla panchina siciliana di Edina Borsos che ha sostituito Filiberto Cocuza. Due sfide salvezza nel programma Star Med TMS Terra Mocellini Padova e soprattutto Tusce Prato Mezzocorona che mettono in palio entrambe punti pesanti in chiave play out. Completa il programma il match del tacca tra Cassano Magnago e Alibest Espresso Mestrino. Rapidamente perché siamo in chiusura in grafica. Prima la classifica e poi il prossimo turno nel prossimo weekend dedicato alla Serie A1 femminile. come per quanto riguarda il girone di qualificazione ai campionati mondiali Under 21. Anche in questo caso le coordinate per seguire tutte le sfide rimangono quelle di sempre. Quindi ci ritroviamo in diretta su Ileve Sportsco. Tutte le sei sfide della prima giornata del girone di ritorno di Serie A1 femminile. Ci sono tutte le gare del girone di qualificazione ai campionati mondiali Under 21. Insomma l'appuntamento con la palla a mano sia internazionale che italiana è rinnovato e il palinsesto è piuttosto ricco. Questo è il quadro, queste le emozioni azzure le abbiamo respirate e lo faremo ancora di più però a partire da domani 19.30 lo ricordo ancora una volta ci troviamo per il racconto da qui da questo luogo dalla casa della pala a mano di Chieti della sfida Italia Montenegro debutto azzurro nel gruppo A di qualificazione ai campionati mondiali Under 21. Ci ritroviamo domani e augurio che rimane quello di sempre. Buona pala a mano a tutti, alla prossima.